Il gameplay di sottofondo che state guardando è un gameplay di X-Defiant che è il gioco che vi ho portato due giorni fa. Osservate bene questa mappa e ditemi cosa vi fa tornare alla mente insomma, che ricordo vi sta facendo riaffiorare. Bene, ve lo dico già subito, mi sembra palesemente una mappa di Black Ops 2. Voglio che qui sotto nei commenti la troviate e che mi diciate quale secondo voi vi ricorda questa mappa. Ovviamente sarà un gameplay misto, quello che vi faccio vedere qui sotto, per parlare di ben altro, nel senso andremo a fare un'analisi approfondita di questo giocone che ha veramente smosso le acque, ha scatenato un putiferio nella community, il video ha riscosso un sacco di successo, è piaciuto molto e di questo appunto ne sono super onorato, sono contento vi sia piaciuto e che ci sia stato un sacco di discussione. Quindi ragazzi in questo video andremo a rispondere anche un pochino agli haters, perché sì, questi maledetti si sono permessi di dire che io ho parlato bene di questo gioco perché sono stato pagato profumatamente da Ubisoft e vi voglio dire questa cosa, magari lo fossi stato, magari, perché sicuramente Ubisoft raga ha un bel po' di money, quindi me ne avrebbe dati un sacco, purtroppo non sono stato pagato e se parlo così raga è perché mi fa male il dente del giudizio, quindi perdonatemi se la mia voce è un po' diversa però sticavo lì. Allora ragazzi, partendo dal primo punto, ovvero che non mi stanno pagando, neanche oggi per fare questo video, lo sto facendo perché? Perché mi sta piacendo da impazzire, proprio sto diventando pazzo per questo gioco, perché? Perché ha tutto quello che manca su Call of Duty attualmente, secondo me, ovvero una velocità estrema questi cavoli dello slide, ok, c'è anche lo slide cancel, tanto meglio, non importa, è palesemente più veloce anche se non ce l'avesse, sarebbe comunque mille volte più veloce. Cosa ha di altro che appunto lo rende un degno rivale di Call of Duty? Non ha l'SBMM, quindi se io non ho voglia di giocare contro i dragoni, sempre, ogni partita, su questo gioco ci sarà la possibilità sia di trovare leoni, sia di trovare gente che vuole sillare, semplicemente, quindi non c'è SBMM e questo è un altro punto a favore. Un'altra cosa, una delle più importanti raga, è sicuramente il fatto che ha un time to kill perfetto, il time to kill che un FPS con questa velocità dovrebbe avere. Guardate come kill, insomma, ci vuole del tempo, quindi questo cosa vuol dire? Che oltre ad essere più precisi, che bisogna avere una vera buona mira, bisogna anche, insomma, quindi allenarsi per migliorare questa mira e, soprattutto, si può anche scappare da un fight. Se hai un riparo, riesci ad andarci dietro, mentre su Call of Duty, ultimamente raga, se ti trovi in una situazione un po' di svantaggio, sei morto, punto, perché basta che l'altro sia già puntato, pronto a sperarti, ti ha ucciso. È un gioco più di posizione, non è un gioco di mira. Questo, invece, occorre una mira migliore, secondo me, come ideologia. Poi, magari, ci sono dei fattori che non lo rendono tale, però non voglio star qui adesso a parlare. Secondo me, comunque, un Call of Duty, con le dinamiche che ci sono adesso su X Defiant, sarebbe fantastico. Poco da dire, poco da fare. Secondo me, sarebbe fantastico. Un Call of Duty, con queste dinamiche, sarebbe il Call of Duty perfetto, che tutti noi vorremmo, punto. Tanti si sono subito scagliati contro Ubisoft. Eh, Ubisoft fa giochi da schifo, eccetera, eccetera. Raga, ok, ci può stare che sugli FPS Ubisoft non è tanto famosa. Mi sa che ha fatto Rainbow, forse, l'unico gioco che ha preso un po' piede, che, cioè, insomma, ha preso abbastanza piede. È piaciuto molto, a me no, personalmente. Non ci sono FPS della Ubisoft che mi piacciono, però c'è anche da dire che non è l'ultima casa, la più sproveduta. Ha fatto Far Cry, ha fatto Assassin's Creed, dei gioconi che sono dei pilastri, insomma, che tengono su tutta la storia. Cioè, una gran fetta di storia dei videogiochi, dei videogiocatori, e, insomma, tutti li conoscono, tutti ci hanno giocato, tutti sanno di cosa stiamo parlando. Quindi, ragazzi, Ubisoft non è la prima casa su cui possiamo sparare cavolate dicendo che non è capace di fare i giochi. È capace, magari un po' meno, sugli FPS. Ci sta, sti cavoli. Comunque, raga, quello che vi ho detto, anche nello scorso video, è pura verità. Non mi frega niente di dirvi cavolate. A me questo gioco sta facendo impazzire, mi piace un sacco, è molto veloce. Tra una settimana magari mi stanco, non lo so, però a me sta piacendo. Un altro punto fondamentale, raga, io non sto attaccando Warzone 2, Modern Warfare 2, non mi interessa nulla. Se te che stai guardando questo video riesci a giocare bene, eccetera, che cavolo me ne frega a me? Nel senso, sono contento per te, bro, sono contento per te. Io non ce la faccio, non mi dà stimoli Warzone 2. Per fortuna su Modern Warfare 2 ci sono le ranked. Io, di mettermi lì su Warzone 2 non c'ho voglia. Se trovo un gioco multiplayer, veloce, che mi dà le stesse vibes, che mi davano tipo Black Ops 2, eccetera, c'è chi dice che su Modern Warfare 2 il movement non è stato rallentato, la corsa non è stata rallentata, eccetera. C'è un video, raga, dove viene comparato Modern Warfare 2 2022 con Modern Warfare 3, che è uscito, mi sembra, nel 2013. Mettono a confronto la velocità e Modern Warfare 3 va due volte più veloce, è il doppio più veloce. Quindi non ditemi che Modern Warfare 2 non è stato rallentato. Se poi, appunto, a uno piace, ci sta. Io, tipo, sulle ranked mi diverto. Però è un altro discorso. Lì non mi diverto tanto per il gioco, ma per la competitività che ci sta attorno. È un altro discorso, non mi va neanche di entrarci. Quindi, raga, non prendetelo come un attacco. Se voi vi divertite a giocare a Warzone 2, fatelo. Fatelo anche per me, perché io proprio non ce la faccio. Non c'ho voglia. Grazie al cielo, ragazzi, è uscito questo gioco. Ora voglio nerdarci un pochino, perché, sì, mi sto divertendo. Per la millesima volta, ve lo ripeto. Mi sto davvero divertendo. Quindi, raga, io spero davvero che non facciano cavolate, che facciano uscire un gioco con i contro-attributi. È un gioco multipiattaforma, per tutti quelli che me l'hanno chiesto. Quindi ci sarà anche per console. Non vedo l'ora davvero che esca la versione definitiva. Che poi, cioè, non riesco a capire tutto questo scagliarsi contro. Cioè, come se vi avessi insultato la madre, raga. Cioè, Ubisoft sta facendo un gioco free-to-play, gratis, completamente. Al posto di dire, speriamo sia meglio di Call of Duty, così non spendo neanche una lira. No, raga, meglio attaccare lo youtuber che vi porta il video innovativo su un gioco gratis, eccetera. Ci sta. E, insomma, adesso ho risposto un po' agli haters. Comunque, sono una piccola fetta, perché la maggior parte di voi ha apprezzato il contenuto, ha apprezzato il gioco, non vede l'ora di giocarlo, e sono super contento di questo. Speriamo non facciano cavolate, raga, e che lo gestiscano in modo tale che possa realmente competere con Call of Duty. E magari spingere Activision a migliorare Call of Duty, che sarebbe una favola, un sogno. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un like ed un commentino. Qua da giorno è tutto. Bella, raga. Alla prossima. Ciao!